Sognare si può, siamo con Alan Magnetti alla presentazione del suo libro Chi è la ragazza qui a Torino al Polskicot. Esatto, sì, è la terza data di questa firma copie che ha cominciato in un altro posto in Piemonte, poi abbiamo fatto Milano, adesso a Torino e poi faremo Modena, Reggio Emilia, Roma e poi faremo la fine tour alla zona del libro. Questi sono i passi, i baby step di ogni passo per poter poi addentrarsi in un'altra storia perché si va di storia in storia. Di storia in storia, anche perché tu sei un artista, come dicevamo fuori onda, poliedrico, ti occupi di tante cose, sei un musicista, sei un regista in questo caso, sei uno youtuber, sei, sei, sei. Mi piace fare tante cose diverse, no? Inizialmente si sono nato con la musica, anzi in realtà se vogliamo essere più sinceri, 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 ho iniziato col disegno da bambino, facevo i fumetti, inventavo Tidamè, che poi è stato come dire una cosa che ho fatto ma che poi era più una cosa così, non aveva uno scopo. Poi ho cominciato a perdermi con la musica, infatti poi ho fatto tournée con Aglio delle storie tese, Mas Gazzè, ho fatto un disco che però è ancora inedito e qui siamo nel frigorifero, perché è ancora nel frigo il disco, cioè per dentro ha tantissimi fituri, è un disco con Claudio Bisio, Mas Gazzè, Chiambretti, Paola Turci, Alessandro Abbia, c'ha 11 ospiti, però è uscito solo un singolo con Sgalambro, col fituri di Sgalambro che si chiama Verso di te e si può vedere anche su YouTube e c'è anche il videoclip che io ho diretto come regista, perché mi piace fare anche la regia. Infatti questo romanzo, chi è la ragazza, non è solo un libro, quindi cari amici che state ascoltando adesso che avete le orecchie belle spallancate, è un romanzo ma è anche un cortometraggio book trailer su YouTube, infatti se voi andate su YouTube cercate Alamagnetti, chi è la ragazza, trovate questo book trailer con la voce narrante bellissima di Alessandro Abbia. E poi dopo ci sono, è un grandissimo, è stato carinissimo, su questo posso svelare un aneddoto perché io ho degli orari molto vampireschi, tipo adesso sto per fare la presentazione alle 7 di sera, ma sto sveglio da due ore, perché io vivo di notte, schivo di notte. E per fare questo testo del book trailer ho mandato a avere il testo, ce l'ho telefonato, guarda c'è questa cosa, e lui l'ha accettato subito, poi ovviamente lo vado a fare, era il periodo che va col programma Maledite Amici Miei, e lui mi cercava per fare quello quando aveva i momenti libere e non mi trova mai perché io dormivo. E lui mi diceva, ma non ti trovo mai, allora alla fine poi l'ho chiamato, è stato un casino farlo perché tra i miei orari, i sui impegni, non riuscivamo a trovare, ci mi ha messo due mesi per fare un monologo, perché, non per fare, per registrarlo, perché mi ha fatto il telefono. Perché non vi trovavate con gli orari. Sì, esatto, perché piccato lui, anche lui è abbastanza incasinato, però poi è venuta una cosa bella, perché appena l'ho pensato, ho pensato a come era il libro, è l'idea che mi è venuta le immagini per fare il book trailer, poi è stato Alessandro Aber e la voce perfetta, che poi considero il più grande attore di venti italiano comunque, oltre che un amico, è un grande, proprio un vero attore, ma un attore non di quelli che studiano e recitano come se fossero una fiction, lui proprio è l'attore. E poi questo progetto è diventato anche una serie di video, e qui lì entra il mio discorso anche come youtuber. Praticamente sono un video di episodi che si chiama Chi è la ragazza, dove all'interno di questi episodi trovate immagini che poi trovate nel book trailer con Aber, e sono già quattro episodi, il primo episodio è con Mas Gazzè, il secondo con Elio sono episodi, diciamo, dei preludi, perché li abbiamo fatti prima che uscisse il libro, erano di lancio del libro che doveva ancora uscire. Poi, cioè con Max Gazzèlio e le storie tese, poi dopo l'ho fatto uno con Panariello e poi con Chiambretti che è anche l'autore della prefazione. Esatto, tra l'altro ha fatto la prefazione a questo libro. Anche se devo dire una cosa, perché chiambretti ha scritto, era il suo pensiero, va benissimo, che io sono protagonista, però non è vero. Ma come no? Anche pensavo quello. No, proprio ci tengo a sottolinearlo, io non sono protagonista, non è autobiografica, non scrivo mai cose autobiografiche. Poi uno può vederci quello che vuole, lui probabilmente ha visto nel modo di fare del personaggio qualcosa che sono pure io, forse l'aspetto un po' sogno, il fatto del sogno, l'idea, ideare quella cosa, probabilmente ha visto me alla sua interpretazione, però non è autobiografica. Non è autobiografica. No, io non sono come Donald Carman, assolutamente, ma non sono neanche come tutti gli altri personaggi che gli altri romanzi che ho pubblicato, perché questo è il quinto che esce. Che esce. Tra l'altro voglio sottolineare, anche se non c'entra con la promozione di questo libro, me ne frego, è che la trilogia prima, anche quella ha avuto tanti libri, anche i miei romanzi precedenti hanno avuto i libri, i video fatti da Fausto Mesolella, degli aviantare che non c'è più, da Sgalambro anche. Il mio primo romanzo, L'inquilino, ha un video fatto con la voce di Sgalambro. L'ha fatto i Bepecletti dei Nomadi, l'hanno fatti Egli e le storie tese, l'hanno fatto Ruggeri, Mariella Nava, tanti hanno fatto, però la cosa che ci tengo di più a dire è che la mia trilogia di romanzi, quella che è uscita prima di questo, aveva ogni dibo una notte di copertina diversa scritta di Andrea G. Pinkertz, che è un altro amico che non c'è più, c'è ma in un'altra dimensione diciamo. Certo. E però ci tengo a sottolineare questo perché per me quella trilogia rappresenta il periodo in cui noi ci frequentavamo e questo era un ricordo che volevo fare. E grazie di averlo condiviso. Sì, perché comunque ci tengo a ricordarlo perché questo è il primo romanzo che promuovo senza di lui, perché di solito noi facevamo le serate insieme a Milano e invece purtroppo lo faccio con altri amici scrittori di là. Domenico l'ho fatto una performance al piano dove improvvisavo mentre leggevo, cantavo anche, perché il romanzo lo canto anche a volte. Perché tu, torno a dire, sei un artista veramente poliedrico. Sì. E quindi insieme al romanzo tu comunque mescoli altre arti. Sì, mi piace mescolare, fare, sì, improvvisare. Soprattutto mi piace improvvisare. Non preparo mai niente. Infatti dopo la rappresentazione c'è anche una persona che mi intervista. Cosa facciamo stasera? Non lo so, quello che viene. Come viene, viene. Mi piace fare così, mi piace. Additura non sto a pensare di arrivare in tempo. Basta che arrivo, non penso cosa devo fare, vado e glielo faccio. È stato sempre così. Non sono schiavo delle prove. Ad esempio adesso ci siamo sorbiti in Sanremo con tutti i terrorizzati, i casini per le prove, prove, prove. Ma non c'è bisogno di provare se sai quello che fai. Cioè nel caso di stare a provare 200 volte le cose, le fai e basta. Se tu ce l'hai dentro la cosa, una volta che le hai fatte, ce l'hai nella testa l'escritta, ti viene e la fai. Cioè non avere queste ansie da prestazione di fare 200 prove e bisticciare per delle prove, lo trovo un po' patetico. È complicata questa situazione, è vero. Questo Sanremo che è appena passato in effetti. Vabbè, io l'ho trovato, ma adesso secondo me è proprio la bella deriva musicale, perché in Italia abbiamo un problema su cui io sono patetico incazzato, anche perché il mio disco è inedito, è rimasto inedito, nonostante che tutte le major dicevano che era bello, nonostante Bisio dentro, 11 ospiti. Perché? Quello è il problema di oggi. Che se oggi ci fosse un artista, non un altro, ma un artista, cioè se adesso fossero usciti da André Battiato Conte, non le avrebbero neanche uscito neanche un disco. Perché adesso non si punta più a un artista che ha una sua voce da sviluppare e far crescere. O ci sono i talent che prendi, butti e porta via, oppure abbiamo questo trap che però non è arte, è semplicemente, come dire, scorreggio e messi su un ritmo, che poi non è originale. Il problema del trap è che non sono originali. C'è quello che fanno loro, è una cosa che c'è già in America, c'è in Italia, non c'è mai niente di originale. Infatti Sanremo è proprio, secondo me, tutti si lamentavano che andavano con questi trap. Invece è perfetto, sono quelli che si meritano. Perché se non hanno costruito niente, il futuro musicale italiano non c'è niente, e quindi vi meritate il trap, è la giusta ricompensa. Questa risposta magari a chi faceva le polemiche e quanto sarebbe, è quello che vi meritate, non avete fatto niente per fare in modo che non ci fosse altro. E quindi allora poi alla fine non si parla qui delle canzoni, si parla magari di due che litigano. E questo è il risultato. Sì, esatto, alle volte poi anziché la musica ci concentriamo sul pepegulesso. Ma ci concentriamo su quello, sulle litigate, perché non c'è la musica. Perché magari non c'è l'altro. Non c'è proprio la musica, Sanremo, vabbè. Torniamo a chi è la ragazza. Qui abbiamo un filo conduttore che ci unisce, no? Il sogno. Sì, sì. Cosa ci puoi raccontare? Ovviamente non tutto, no? Senza spoilerarlo. Senza, esatto. Ma dunque diciamo che in questo romanzo si basa il concetto, il fuoco di questo romanzo e il confine fra il sogno e la realtà. Perché il protagonista, Donald Karma, che è una persona diciamo molto comune, talmente comune da essere quasi invisibile, cioè lui vive col padre, è un po' malato, la madre è morta da tempo, ha una sorella che addirittura ha una carriera politica però che non lo considera più e fa il lavoro in un col senso. Tutte le giornate sono sempre uguali. Però a un certo punto comincia a fare questo sogno ricorrente dove compare a volte questa ragazza. Una ragazza che ha due occhi di colori diversi, uno è indaco e l'altro è ambra. E questi due colori rappresenteranno anche due modi di sognare lui questo percorso. Perché alla fine questi sogni ricorrenti diventeranno una specie di realtà parallela che poi svelerà il confine sempre più sottile fra la realtà di tutti i giorni e quella del sogno. Addirittura capoggiandosi l'idea che forse quello che sogni non è quello che ti capita mentre dormi ma quello quando sei sveglio. Quindi si arriverà a un punto che però lo porterà, lo obbligherà, lo costringerà a dover capire chi è. E quindi il sogno è anche come percorso di conoscenza di sé ma soprattutto lui si innamora poi di questa ragazza che vede nei sogni. Però quando sogna, e questo è lo scherzo, il grottesco, e quando lui sogna non è se stesso diventa uno che è fisicamente uguale a Woody Allen. Non si capisce perché. Lui manco sa chi è Woody Allen. Quindi lui quando si sveglia nel sogno è sempre questo tizio che non è Woody Allen però è uguale a Woody Allen ma non è Woody Allen che è uno che magari fa i festini, fa cose, cioè l'opposto di lui. Mentre lui è uno praticamente che è vergine praticamente questo Donald, no? E quindi finisce dentro il corpo di quest'altro in tutti i sogni e a volte c'è questa ragazza e lui comincerà poi a completamente andare in tilt per queste due cose. Però svelerà molto che ci riguarda perché comunque quante volte voi quando vi svegliate i cari amici che state ascoltando adesso fate un sogno, ve lo ricordate? Questo sogno influenza la vostra giornata. Capita spesso. Capita, è vero. Ci troviamo influenzati dai sogni. Esatto. Addirittura magari il sogno è una cosa sbagliata su qualcuno poi magari c'è incazzato con quella persona perché l'hai sognata che ti ha fatto incazzare che invece magari non è assolutamente vero. Però spesso i sogni rivelano cose poi sono comunque anche un contatto con una dimensione parallela che tra l'altro si può avere anche soltanto con l'arte. Infatti io quando scrivo come questo romanzo non è che io penso, penso, scrivo. No, io apro, accendo il computer e scrivo. Cioè non so neanche quello che faccio. È come quando faccio la presentazione io non so quello che faccio. Infatti quando ho fatto la presentazione a Milano ho fatto questa performance piena fatta. Mi metto sei stato bravo e così ma sinceramente non mi ricordo cosa ho fatto. Quindi bisogna registrarti così poi ti guardi dopo. Quello di Milano l'ho messo il filmato l'ho messo anche su YouTube così chi vuole lo guarda chi non c'era. Però diciamo che quando scrivo seguo semplicemente la storia. Cioè la storia va avanti da sola. Cioè non faccio facilità a scrivere. Devo solo trovare il tempo tra magari dieci video da montare per i miei canali YouTube perché io ho anche dei canali in inglese. C'è uno sul Vraising che ha 14 milioni di pasti di visualizzazioni quindi lavoro anche su quello e quindi per tutte le cose che faccio devo trovare il tempo in una giornata. Per fare tutto quanto. Esatto. Per fare tutto quanto. Senti quindi questo tour terminerà in giro per l'Italia terminerà al Salone del Libro. Sì a meno che poi non insistano a farmi altre date però vorrei terminarlo lì perché poi devo pensare al progetto dopo. Esatto perché questo vorrei dire che tu sei una persona anche molto creativa. Sì sì. Perché hai tanti sogni nel cassetto nel senso tante opere. Sì diciamo che ho una schivania con i cassetti che esplodono quindi rischio di saltare i nari devo aprirne qualcuno. Infatti quando mi dedicavo solo alla musica ho scritto centinaia di canzoni poi anche magari centinaia buttate. Quindi potrei questo per dire discografici avrei almeno cinque o sei album cioè praticamente con le scalette solo da sistemare per dire. Con i romanzi è la stessa cosa questo è il quinto che pubblico ma sto scrivendo intanto per i fatti miei il trentaseiesimo quindi io scrivo tanto su YouTube ho fatto migliaia di video soprattutto sul canale del Vresing che è quello più grande però in generale anche gli altri canali dove quello come artista che ci sono questi ospiti io ho fatto video con Sgarbi Ruggeri Minghi tanti artisti alcuni sono dei chiacchierati altri sono video per me per i miei libri oppure ho un altro canale in inglese su collezionismo io colleziono action figure quindi faccio tutte le review in inglese cioè sei veramente faccio tante cose infatti io arrivo tipo stamattina sono arrivato alle sede del mattino che non ho riuscito a finire tutto perché ho dovuto fare una diretta di due ore sul canale del Vresing poi pubblicare sull'altro canale e pubblicizzare perché poi devi lavorare molto su YouTube anche sulla promotion su un altro video poi ho dovuto montarne altri due era una giolesse che aveva anche uno stop motion da fare l'ho dovuto rimandare annaggia troppe cose perché tantissime cose ovviamente poi comunque sono uno che si sveglia tardi perché andò a dormire tardissimo ti svegli tardi e quindi però e tutta l'organizzazione di queste giornate frenetiche sì sì con tutte queste cose da fare con questi sogni da realizzare con il lavoro che comunque anche se ti piace meno male devi essere seguito e sì quindi va seguito poi adesso c'è pure il libro da portare in giro un po' di cose sono sempre pieno di non mi annoio mai quello no beh questo è fantastico però sì sì non l'annoio o non la conosco allora dobbiamo salutarci perché sì ci salutiamo perché dobbiamo perché sono la gente stanno aspettando la gente che c'è la presentazione se ne va via io già sono arrivato di ritardo perché ovviamente e quindi consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di seguirti seguire Alan Magnetti esatto su facebook potete trovare la pagina facebook Alan Magnetti se non potete venire alle presentazioni ma volete lo stesso una coppia del mio romanzo con dedica che non vuol dire la dedica a che ne so a Paolo con affetto no proprio un pensiero poetico scritto solo per ogni persona quindi chi vuole una coppia con dedica basta che mi scrive e ve la posso pure mandare a casa se non riuscite a venire alla presentazione questo è che quindi vi do l'opera più un piccolo pensiero una fra una piccola cosa una dedica che è un pensiero un po' lungo non è una robetta così quindi avete in più quello se volete proprio la dedica personalizzata proprio per voi o per qualcuno che amate benissimo quindi in bocca al lupo adesso la presentazione gli ospiti ti aspettano e noi magari ci incontreremo chissà alla fiera del libro al salone ci vediamo alla prossima ladies and gentlemen sognare si può mi raccomando seguiteci grazie a tutti A train sideways can't seize my mind All I've got is this rusty blue bike Roaming for the weather outside I got a rusty, I got a rusty I got a rusty blue bike I got a rusty, I got a rusty I got a rusty blue bike And I got a rusty blue bike And I got a rusty blue bike So I'm not going to buy the other I got a rusty yellow bike So I got a rusty blue bike